Alle valigie pronte Don Andrea Brugnoli, fondatore delle Sentinelle del Mattino, destinazione Spagna. Nel paese iberico il sacerdote veronese è stato chiamato per far consolidare altre realtà come quella che dal 2000 ad oggi ha conquistato e coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze italiane, vale a dire le Sentinelle del Mattino appunto. Sì, infatti i giovani spagnoli diciamo che hanno grande sete di Dio. Con l'epoca di Zapatero la chiesa spagnola si accorta che la pastorale un po' tradizionale così come finora è stata fatta non ha prodotto grandi frutti. Dietro una grande facciata è rimasto un po' il vuoto e quindi ci sono dei giovani spagnoli credenti che vogliono approfondire la loro fede e testimoniarla in una società attualmente quella spagnola molto laicista. Infatti rischiano talvolta anche così di essere un po' malmenati o comunque insultati. Sono davvero dei giovani molto coraggiosi. Che cosa vuol dire per un'esperienza come la sua, come la vostra, quella delle Sentinelle, questo contagio che si sta allargando? Per noi è una grande consolazione perché l'intuizione che abbiamo raccolto da Giovanni Paolo II nel 2000 si dimostra vincente. Quindi sono proprio i direttori della pastorale giovanile che ci chiamano e noi portiamo questa ventata di aria fresca dentro le varie diocesi spagnole ma anche italiane. E diciamo che la pastorale giovanile si sta rinnovando da di dentro, non facendo delle nuove attività perché non è quello che proponiamo, ma formando delle nuove persone. Formando cioè dei formatori, degli evangelizzatori, dei leader all'interno di queste diocesi. Da Verona, dove è sede il Centro Internazionale per la Formazione alla Nuova Evangelizzazione, la proposta del giovane sacerdote ha allargato i suoi orizzonti divenendo un'esperienza che ha attratto l'attenzione di tanti vescovi in Europa interessati a nuove proposte di evangelizzazione rivolti ai giovani ma non solo. Qui si tiene di solito il caffè teologico, che grande successo ha avuto, ma quali sono gli ingredienti di un'esperienza come quella delle Sentinelle del Mattino? Sì, attualmente il caffè teologico è presente in sette città italiane e anche a Barcellona e in Spagna. È un format davvero che funziona perché poggia sulla grande domanda che la gente si fa sui temi scottanti della ragione e della fede. E sono temi a cui la gente interessa molto. Diciamo lo specifico di questa proposta del caffè teologico non è tanto la conferenza in sé su questi temi, ma sono le sentinelle. Cioè questi giovani che all'interno di questo format prendono contatti, entrano in relazione con dei giovani che talvolta anche non credenti frequentano questo ambiente perché vengono a cercare la verità. Io credo che i giovani di oggi sono stati ingannati da tante cose e cercano un approccio di verità ai temi dell'etica, della storia, della filosofia, della vita. Come sarà la nostra chiesa del futuro allora? Io credo che c'è grande speranza perché i giovani di adesso non vogliono un cristianesimo di facciata, non vogliono una religione, ma una fede. E questi giovani credenti sono capaci di mettersi in gioco, di testimoniare la propria fede negli ambienti anche molto ostili come può essere oggi l'università, il collega di lavoro, il parente, il vicino di casa. Quindi questi giovani stanno crescendo, si stanno sposando, stanno mettendo nel mondo dei figli e sono persone che non frequentano così gli ambienti della chiesa, ma oltre a frequentare anche sono capaci di testimoniare nella vita di tutti i giorni. Ed è questo quello di cui abbiamo bisogno. Credo che la chiesa del futuro sarà fatta da persone nuove e queste stanno crescendo, ci sono.